Se anche tu sei stanco, ti sei stufato e hai detto basta, questi nuovi oggetti, io non so come fare, troppi, 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 beh, io ho la soluzione per te, seguimi. Che cosa c'è scritto qua? Collezione? Premiamo. Cosa c'è scritto qua? Oggetti? Premiamo. Ma che cos'è questa cosa? Signore e signori, benvenuti nel mio rapido tutorial su come organizzare gli oggetti per questa nuova season. Io lo faccio già da sei anni, ma dato che adesso con gli oggetti appunto c'è un po' di caos, eccoci qua. Cos'è questo? Uh, questa è una magia che potete fare voi stessi con le vostre manine schiacciando il tasto più. Ah, oddio, che cos'è questo? Questi sono gli oggetti, amici miei. Noi qui possiamo creare i blocchi di oggetti, esattamente come quelli che ho già creato io. Andiamo sulla D. Oh, guarda, che cos'è questa cosa? Io ho organizzato i miei oggetti, signori. Li ho organizzati così che all'interno della mia partita abbia il mio metodo per poterli trovare. Per esempio, nella sezione AD ho messo gli oggetti che danno a D mitici e li ho intitolati mitici. Subito dopo ci sono quelli che danno critico, quelli che danno anche salute, quelli che hanno degli effetti vari, non ben specificati, e quelli che danno letalità. Semplice ed efficace. Passiamo invece magari alla P. Voilà! Da gli oggetti mitici e gli oggetti che danno a P. Come ho organizzato gli oggetti? Da quello che dà il più alto valore della statistica che cerco io, a quello che dà il più basso valore. Tenendo conto che il Tomo Mejai e Rubanime, in verità, late game, dà più a P di tutti gli altri oggetti. Se siete bravi, se no no. Andiamo oltre! Cos'altro ho fatto? Per esempio, ho fatto quello da giungla. Bello, eh? Magico! Ho anche fatto quello iniziare, lo starting item system. Ci ho messo questo che in verità non serve a niente perché il negozio all'interno del gioco te l'ho già dato in automatico, ma va bene. E in più ho aggiunto gli oggetti iniziali che servono per le lane. Come si fa a fare tutto ciò? Per esempio, poi, aggiungo anche, ho fatto quello per i support. Semplice, efficace. Come si fa a fare tutto ciò? Molto semplice. Volete andare in AD? Volete aggiungere qualcosa? Selezionate attacco fisico. Mettete il prezzo a scendere. Così, vabbè, la spatola non la troverete nella landa, chiaramente. Così avete quello che costa di più fino a quello che costa di meno. Ma perché ho fatto questo? Andiamo nel nostro strumento di allenamento. Amici miei, amico mio, io ti guardo negli occhi nel dirti che se qualcuno, chiunque, ti viene a dire Eh no, ma io voglio sistema di oggetti che c'è di League of Legends e loro lo fanno bene e lo implementeranno bene. Non è uno stupido. Ha ragione League of Legends. League of Legends migliorerà il sistema sempre di più. Ma, ma, ora ti faccio vedere quant'è il risparmio in termini di tempo nel fare questa cosa quando si è in game. Perché è vero che League of Legends sistemerà sempre di più il nuovo Emporio degli Oggetti. Ma, ti faccio una domanda. Vabbè, sono Elise. Ok, ho tutto bello organizzato, vedo tutto molto bene. Fammi controllare che questa volta io stia davvero registrando la cosa giusta. Sì, perfetto. Non si sa mai. Tutto molto bello, tutto molto interessante, tutto molto bene organizzato. Ora però tu dimmi. Secondo te qua ci sono tutti gli oggetti? Tutti, tutti, tutti? In verità? No. In verità qui ci sono tanti oggetti, però non c'è proprio tutto, tutto, tutto. Cioè, è diviso per combattente, tiratore, assassino, mago, tank e supporto. Che è giusto, in tutte queste categorie alla fine ci sono racchiusi tutti gli oggetti, ma la sua suddivisione è una suddivisione che a me non convince. Perché, per esempio, il collezionista, che è un oggetto che dà letalità e colpo critico, metterlo come oggetto ad assassino? Sì, però in verità è un grande bait, perché, eh, ok, va bene. E tante altre cose. Il rancore di Serilda, sì, è un oggetto anche da assassini, ma andiamo nei tiratori, lo troviamo anche qui. Quindi è un oggetto un po' confuso, come fai a trovarlo tranquillamente, essendo molto più specifico? Vai in set di oggetti, ed eccoci qua. Non devi navigare tra i vari reparti, non devi fare niente. Ce l'hai tutti davanti ai tuoi occhi, in base a come te li sei organizzati. Critico? Tac, molto semplice. Salute? Tac, molto semplice. Metallità? Tac, molto semplice. Tutti sotto mano, hai tutti gli oggetti mitici. Organizzati in base alla D, sempre meno D, sempre meno D, capito? Davanti ai tuoi occhi non ti fai problemi. Eh, ma dove sono finiti tutti gli altri set? Molto semplice. Premi sul tuo nome, e tutto il resto, giungla, start, che vedete, lo start è uguale a... All'ingozio in alto a sinistra, quindi... Sì, start non è necessario, serve a me come cosa. Tranne che io, appunto, ho aggiunto gli starting items. E poi, gli stivali. Io avevo la mia sezione per gli stivali, non serve più a niente farla, proprio zero, perché li hai tutti qua. Non te li mette sparsi, ti mette proprio quelli. Ragion per cui. Io ti do questo consiglio. Fai la tua personalizzazione, anche perché aprire questo ti aggiunge tanti piccoli pezzettini, tanti piccole cosine, che possono distrarti. Apri qua, è un momento concitato, stanno per buttarti giù un inibitore, devi fare in fretta, arrivi qua. Cosa devo, cosa devo comprare? Cosa devo comprare? Cosa devo comprare? Cosa devo comprare? Sei un Elise? Sì, perdoni, lol, mi dispiace. Eri già qua, in AP. Cosa devo comprare? Non hai 18.000 oggetti davanti, hai quelli che effettivamente possono servirti. Easy. Easy. Tranquillo, senza fare nessuna fatica, senza dover impazzire. Sei qui, sei tranquillo, ok. Cosa devo fare? Tac, tac. Tac, tac, tac. Lo costruisci, selezioni l'oggetto e costruisci da qui. Non lo costruisci partendo da qui, ok. Qual è il pezzo per fare quello dopo? Oddio, non mi ricordo più. No, 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 no. Tu dici. Qual è l'oggetto finale che voglio avere? Questo? Voglio avere questo? Voglio avere questo? Semplice. Efficace. Ragion per cui, io non dico che questo sia il metodo migliore per tutti, anzi, però per me, per quelle che sono state le mie esigenze, dal 2014, sì, 2014 ad oggi, questo è stato il sistema degli oggetti da me creato, che ho sempre utilizzato, il migliore. Poi, ognuno può fare quello che vuole, non c'è nessuna limitazione, siamo tutti liberi, però io ti do questo consiglio. Vedi tu. Detto questo, mentre League of Legends cerca di rendersi conto del fatto che io non sono più in partita, io ti saluto e ti ringrazio. E ci vediamo qui, in un prossimo video. E se riesci, fai un saltino pure in line. Alla prossima! Unico Fragile, ora funziona! Magico!